Ciao a tutti, oggi prepareremo le carote al marsala. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono carote tagliate a rondelle, marsala, aglio, sale, pepe, olio evo, prezzemolo, acqua e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, posizionare il cestello con le carote, chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 1. mettere da parte le carote e svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale, mettere l'olio e l'aglio. Ed azionare il bimbi per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. aggiungere le carote, il pepe, il sale, il marsala. ricuocere per 4 minuti, temperatura varoma, anti-orario, velocità soft senza misurino. trasferire in un piatto da portata, spolverizzare con il prezzemolo tritato e servire. carote al marsala. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie! 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 Grazie.